E' una super schiaffone quello che è avvenuto nella giornata di ieri con una veramente forte impatto delle liquidazioni, delle posizioni long sul mercato delle criptovalute e flash crash improvviso di bitcoin che avviene tutto in poche ore, tutto all'interno di questa giornata alla perdita di un determinato livello di supporto. Allora come sempre agosto è un mese che lascia queste volatilità a volte anche positive a volte negative, a dire la verità agosto forse un po' più un mese negativo nella storia dei mercati anche nei mercati classici, nei mercati old, mi ricordo ancora di qualche periodo veramente difficile che è stato sempre rappresentativo di questo mese. Perché? Perché gli scambi sono sottili, ci sono pochi operatori all'interno del mercato, sono molti in ferie e poi avvengono queste cose qui ragazzi. Vi faccio vedere anche quelle che sono i dati per quanto riguarda la questione legata al grafico più breve per farvi capire come è avvenuto il teoricamente disastro. Meno 9,30% tutto all'interno di un'unica candela da circa pochi minuti, questi sono 15 minuti ma se noi la scompattiamo guardate anche a 5 minuti quello che è successo. Cioè noi abbiamo nell'arco di 5 minuti intorno alle ore 23.40 della giornata del 17 agosto una liquidazione di circa il 9% su Bitcoin che porta a prezzi di Bitfinex il mercato dal livello di apertura di 27.500 a un livello di chiusura di 25.100 con un minimo toccato a 24.789. Il tutto è avvenuto a causa delle forti liquidazioni della pressione che si è innescata sui long, sono stati liquidati nella giornata scorsa circa un 855 milioni di long ragazzi quindi quasi un billion quindi una cosa incredibile liquidazione a catena con un mercato sottile che non è molto istituzionale e soprattutto in virtù della settimana di ferragosto quindi in virtù della settimana di ferie io stesso appunto ero in ferie quindi sono in ferie quindi non c'ero ieri a guardare questa cosa e avviene questo parliamo così disastro teorico. Allora è un classico movimento alla Bitcoin, è un classico movimento del settore delle criptovalute però alcune cose le ha modificate già ve lo dico in maniera molto chiara da qui poi purtroppo mercoledì ragazzi non abbiamo fatto il video perché appunto sono in ferie come vi dicevo non riuscivo questa settimana a essere presente come al solito anche oggi diciamo è estremamente complesso insomma reggirare questo video, registrare questo video però oggi era impossibile non farlo quindi già dal fatto che questa fase up non fosse stata ripresa poi in questi giorni qui aveva in pratica reso pericolosissimo il livello di supporto di questa zona cioè i 28008. Per fortuna devo dire la verità alcune delle nostre macchine sull'Academy sono uscite soprattutto quella legata al bot holding che è un bot che gestisce la posizione in hold con cui ho deciso di delegare le mie posizioni in hold per l'anno 2023 in quanto hanno appunto da trader e non da holder allora ho deciso di assegnare a questo bot pubblico in Academy le posizioni anche di lungo periodo e anche se non sta facendo benissimo in queste giornate perché ovviamente con un alto e bassi di questa zona ovviamente in barra di congestione i bot di lungo periodo non portano a casa rendimenti per fortuna è uscito da questa posizione a 29.200 buttandoci fuori da questa situazione e dandoci soprattutto un'enorme spada in mano quindi un'enorme possibilità in mano cioè quella di restare in pratica flat fino a quando il mercato non va a recuperare effettivamente poi questi prezzi quindi in pratica noi in questo momento siamo usciti a prezzi più alti e possiamo restare in questo modo anche tutto l'anno se il mercato continuerà a fare questo tipo di giochini è sempre difficile per un sistema algoritmico gestire queste posizioni questa volta siamo riusciti altre volte per esempio ha fatto degli stop però alla fine dei giochi quello che conta e il risultato finale è sempre la positività della sommatoria come si dice così per chi fa analisi del trading algoritmico lo sa quindi ben venga come aveva già fatto nel bear market precedente lo ha rifatto anche in questo momento allora cosa però è successo in effetti il mancato sostegno di questo livello di supporto dei 28.800 e 28.500 ha dichiarato che la struttura che aveva ripreso vita dal minimo dell'1 agosto moriva in pratica qui perché non c'era modo e ve l'avevo anche spiegato se vi ricordate nella ipotesi numero 2 non c'era modo poi per questa fase mensile di poter andare a fare nuovi massimi in quanto una volta breccato questo livello veniva dichiarato che tutta questa struttura andava in chiusura del ciclo trimestrale e anche dei cicli mensili quindi in pratica tutto quello che erano le possibilità rialziste venivano meno per qualche giorno quindi almeno fino alla fine del mese e questo discorso qua ha innescato una spirale di vendite cioè la perdita dei supporti poi chi fa un'analisi ciclica sa che comunque lì sotto i 28.800 e 28.500 in pratica è virata al ribasso tutta la struttura per esempio proprio prima di questo flash crash all'interno dell'academy di alcuni utenti mi avevano chiesto Mauro che ne pensi del ciclo settimanale e io ho risposto è girato tutto al ribasso settimanale mensile e probabilmente andiamo in chiusura trimestrale ho risposto secco perché quando avvengono queste cose l'analisi ciclica poi diventa univoca e indica una sola direzione e quindi sommate gli analisti ciclici sommate gli analisti tecnici che si vendono il breakout di questo livello di supporto sommate il livello della bassa liquidità all'interno del mercato ad agosto e quindi una fase di suo più leggera quindi pericolosa di questa fase e il gioco è fatto e anche il fatto che qui per gioco di parole non c'erano alcun tipo di supporti l'unico era questo qui 26.700 che poi in effetti è stato recuperato vedete arretto un po' poi è stato recuperato in chiusura e poi il successivo supporto che è stato toccato io questi supporti ragazzi non li ho modificati sono gli stessi che abbiamo visto anche le altre volte e sono identici il mercato ci sbatte e poi ritorna qui è ritornato indietro qui invece ha avuto la reazione comunque flash crash enorme quindi complici tutti queste strutture e quello che si evince è questo quindi una sommatoria di liquidazioni perché le posizioni long dei trader quantitativi e dei trader tecnici erano tutte fuori dovuto al cambio trend le posizioni dei trader di natura ciclica erano fuori sono uscite perché ovviamente siamo andati a breccare dei livelli che ciclicamente indicano la probabilità che si andava nel scenario numero 2 quello negativo e quindi fine dei giochi pratica vai giù praticamente perché nessuno compra a quel punto quindi cosa succede poi? bisogna sostanzialmente raggiungere un nuovo livello di equilibrio cioè quale prezzo è sufficiente a far sì che questa catena di liquidazioni possa essere bloccata e il prezzo attualmente che ha bloccato tutto è stato 25.000 dollari il problema ed è un problema non da poco è che teoricamente questo minimo cioè quello del 14 giugno che ha dato vita alla partenza di un ciclo trimestrale a 24.838 è stato bucato con 24.713 prezzi Bitfinex è stato bucato nella giornata di ieri questo significa che questo intero ciclo trimestrale è virato al ribasso perciò il trend ribassista non può cambiare in nessun modo fino alla chiusura di questo ciclo trimestrale quindi capite bene cosa significa ragazzi in questo momento andare a fare dei long è per stomaco forte per chi ha lo stomaco forte per le balene per chi pilota un po' il mercato le manipola per chi sa quello che sta facendo e quindi non segue i grafici sostanzialmente allora a quel punto sì però per le persone normali diciamo così escludendo quelle 10-15 persone nel mondo che sono in grado magari di gestire queste fasi perché le pilotano escludendo quelle 10 persone sostanzialmente tutti quanti in questo momento non comprano e questo è un problema di fondo quindi ci sono i market maker che faranno il gioco sosterranno il mercato questo minimo è sufficiente alla chiusura del ciclo trimestrale di Bitcoin siamo a 64 giorni un ciclo trimestrale è sufficiente 64 giorni per la chiusura di un ciclo trimestrale ma è veramente veramente poco questo ve lo dico in maniera molto chiara e ciò significa che andare a ragionare dicendo abbiamo chiuso qui il trimestrale di Bitcoin è da iniziamo a risalire ora è da pazzi e soprattutto non ha un senso della gestione del rischio eccetera è una scommessa qualcuno di voi magari la farà anche ma è una scommessa da ludoteca e da ludopatia non c'entra niente con l'investimento fatto e il trading fatto in maniera precisa qui bisogna attendere e capire il mercato dove andrà a chiudere l'intero ciclo trimestrale io avevo indicato nelle scorse analisi la questione legata al 27 agosto quindi fine mese di agosto per quanto riguarda la chiusura di questa fase di trimestrale perché semplicemente avevo dato lo stesso lunghezza la stessa lunghezza a questo mensile facendolo diventare un mensile corto da 26 giorni come il precedente potrebbe accorciarsi tranquillamente anche 74 giorni non sono un numero di giorni ragazzi sufficienti per la chiusura di questa struttura ciclica cioè vanno bene sono adatti però di solito bitcoin sta tra i 70 e i 90 giorni quindi fatevi un po' i calcoli quindi fino a fine mese di agosto è possibile ancora assistere a questi sciacquoni c'è un'ipotesi l'unica che esiste ve lo dico subito che questa zona possa essere stata chiusa un ciclo bimensile da 64 giorni totali con due mensili in forma ternaria che sono creati appunto in questo modo quindi 22 26 16 quindi un mensile diciamo più più cortino quasi cioè non è un mensile diciamo è un bisettimanale chiamiamolo così però tutti e tre queste strutture cicliche potrebbero chiudere un ciclo da 64 giorni quindi teoricamente due mensili insieme a quel punto cosa si potrebbe andare a verificare che il mercato vada a inserire un nuovo ciclo mensile da qui magari della durata di 20-30 giorni allungando in sostanza questa fase e questo ciclo mensile teoricamente però poi va a chiudere il ciclo trimestrale quindi in pratica ok il rimbalzo però essendo che il trimestrale è girato al ribasso e chiude con un nuovo minimo o semplicemente un doppio minimo con questa zona una barra di congestione quindi in sostanza anche se fosse questa fase non dovrebbe avere vita lunga cioè dovrebbe essere una specie di barra di accumulazione quindi se anche fossimo in una struttura di un mensile che è in chiusura in questi giorni e da qui si inizia a recuperare un pochino a ballare così si fa trading range e poi magari chiude un mensile da 20 giorni 26 giorni più corto che va a far coincidere anche la chiusura del ciclo trimestrale che a quel punto diventa vedete di 90 giorni quindi un trimestrale pulito insomma semplice 90 giorni classico essendo che qui ci sono i sabati e le domeniche incluse se invece li togliamo sarebbero ovviamente di meno i giorni detto questo posizioni contro trend in questa fase non se ne devono prendere il massimo dell'anno 2023 questa volta a retto attenzione perché in questo caso siamo con un massimo che a questo punto può diventare effettivamente il massimo per i prossimi mesi abbiamo segnato 32.000 circa non c'è arrivato proprio a 32.000 è sufficiente per l'intero anno 2023 ne abbiamo parlato tanto il mercato può ancora allungare almeno fino al break definitivo dei 25.000 dollari in maniera inclosa almeno daily ragazzi almeno daily quindi se chiude a 24.500 almeno daily ma io credo che se andrà a breccare questo livello fa un'altra liquidazione a catena come quella che ha appena fatto perché anche qui non ci sono livelli di supporto fino a 22.000 e 3 e questo è un po' un problema perché se brecchi e chiude qua sotto poi fa lo sciacquone così avete capito cosa succede è la stessa cosa che abbiamo visto qui quindi bisogna agire anche con tecniche un po' particolari su questi mercati no? anche quando si vanno a creare le strategie algoritmiche come quelle che abbiamo noi bisogna presupporre che queste fasi di breakout sia negative che positive quando avvengono non ci danno il tempo di entrare quindi è tutto un gioco in anticipo rispetto a queste fasi e chi conosce bitcoin ragazzi lo sa e i mercati delle cripto agiscono bisogna agire in questo modo quindi brutte notizie assolutamente sì non bruttissime questo è vero siamo in una fase di congestione ma probabilmente se qui il mercato ha delineato quello che è la chiusura quella che è il massimo del ciclo annuale di bitcoin a 32.000 da qui noi stiamo entrando in una nuova fase la fase del quadrante come vi avevo spiegato in quella video lezione sull'analisi ciclica sui quattro quadranti il quadrante della chiusura in pratica del ciclo annuale andiamo a vedere se lo riprendiamo quel quel grafico lì perché era presente se non erro in questo grafico qui esatto però ho capito perché trading view da un po' di settimane fa questo fischio ne ho che cambiamo vabbè allora qui eravamo nel segmento short anche di questo ne avevamo parlato veramente tanto e attenzione a un breakout di questo livello perché vedete come è importante questa fase a questo punto questo è bit stamp la candela settimanale di bit stamp che è stata meno pronunciata con meno sciacquoni rispetto a bit phinex e agli altri perché qui il minimo è stato toccato a 25 e 9 ragazzi facciamo una cosa proviamo anche a a guardare i prezzi di di binance perché non lo guardo mai binance sono sincero per quanto riguarda queste queste fasi anche a proposito anche il cme guardate la struttura del grafico del cme guardiamo guardate dove siamo un break di questo livello definitivo anche sul cme inverte la struttura di medio periodo e passa diciamo la struttura di bitcoin probabilmente ad essere ad andare verso la chiusura del ciclo annuale la fase di chiusura del ciclo annuale allora andiamo a vedere il minimo toccato su binance è stato di 26 mila dollari quindi leggermente più alto rispetto a bitfinex che abbiamo visto essere diversi a bitstamp quindi consideriamo più o meno sostanzialmente questa fase qui vedete anche come è importante andare a ragionare su più fronti ragazzi perché qui come vi ho fatto vedere prezzi di bitstamp il minimo vedete 20 di bitfinex prezzi 24 e 7 poi andiamo a vedere binance prezzi 26 andiamo a vedere bitstamp prezzi addirittura 25 e 9 quindi quale è vero teoricamente 25 e 9 è meglio di 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 questi insomma quindi in teoria questo sciacquone che poi è andato magari a breccare appunto quel livello e ciclicamente invertire il ciclo è uno sciacquone che non va preso in considerazione perché sugli alt exchange abbiamo chiuso un po' prima quindi teoricamente questo qui è un fake è una fake shadow diciamo così quindi vedete quanti ragionamenti bisogna fare nel settore dell'ecrito per poi tirarle delle conclusioni perché c'è il problema legato al discorso che siamo nella con mercati non regolamentati e quindi le quotazioni sono diverse per un single exchange allora questa fase qui questa fase di struttura in questa zona se dovesse breccare e consolidare al di sotto di questo livello entreremmo probabilmente in una struttura che andrà a chiudere poi il ciclo annuale ciclo annuale di bitcoin che a quel punto ha dei target molto più bassi di questo ma andrebbe in chiusura naturalmente verso febbraio cioè sostanzialmente sarebbe difficile andare a battere questo massimo perché al di sotto dei 25.000 con conferma almeno daily questo massimo potrebbe diventare con una buona probabilità 60-70% il massimo dell'anno 2023 a meno di cose anomale magari cicli chiusi prima anticipazioni troncamenti insomma cose strane che possono sicuramente avvenire ma che comunque non vale la pena prendere in considerazione in quanto poi dobbiamo capire che sono anomalie tecniche siamo a 266 giornate dall'inizio del ciclo annuale ovviamente troppo poco io direi almeno tra i 50 e tra i 60 e in questo caso andiamo verso novembre quindi da novembre a febbraio andiamo a chiudere il ciclo annuale di bitcoin c'è una una questione tecnica cioè il fatto che questa struttura ciclica dell'annuale possa essere in effetti di natura ternaria perché qui abbiamo avuto per esempio un 200 e potremmo avere una struttura più corta qui centrale che ha fatto questa fase e poi una terza che fa una cosa del genere quindi potremmo in effetti avere una chiusura di una specie di ciclo trimestrale lungo magari da 120 una cosa del genere che sarebbero non trimestrale ma sarebbe una specie di semestrale corte un'anomalia e insomma di questo magari ne parliamo perché ciclicamente poi diventa sempre complesso andare a ragionare su tutti questi questi step ragazzi in quanto andiamo a ragionare appunto di anomalie tecniche al momento c'è da stare attenti anche il breakout confermato in clod settimanale oggi venerdì quindi mancano due giorni della media mobile di cui abbiamo parlato praticamente da una vita cioè quella a 26 settimane cioè la media mobile del ciclo annuale sancisce che il mercato inverte il trend anche a livello di media mobile e andiamo nella fase di chiusura del ciclo annuale quindi aspettative rialziste da qui alla fine di quei mesi che vi ho detto che fine fanno ne parleremo poi nei prossimi video magari quando ritorno face on come si dice e soprattutto quando il mercato ci darà anche nuovi atteggiamenti nuove carte da giocare per il momento è tutto ragazzi fatemi sapere come siete riusciti a gestire questa fase se ci siete riusciti siete riusciti a uscire alcuni di voi mi hanno anche scritto proprio un ragazzo pochi giorni fa poche ore fa dire la verità scusate ragazzi poche ore fa mi ha appena scritto e mi ha detto che ero riuscito appunto a uscire prima del 16 alcuni di voi magari sono riuscito a prendere a scappare a tirare in barca fatemi sapere come sempre nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao